Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo La Dolcezza Vitale. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Bisogna sentirsi liberi di compiere opere di bene, vivere sensazioni vere e un mare di forte passione perché la dolcezza vitale è proprio questo. Sentirsi liberi di compiere il massimo della positività che si può compiere e realizzarlo con il massimo ardore vitale, con una passione forte e fare di tutto affinché si stia bene nell'umanità. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La Dolcezza Vitale. Sentitevi liberi di compiere tante opere di bene e vivrete sensazioni vere e un mare di forte passione. Fate di tutto per essere seme vivo dell'umanità donando le sacre opere che offriranno dolcezza infinita. Siate esempio vitale per chi vorrebbe aiuto a diventare umile col degno e sacro tributo. La vostra vita sia una degna dolcezza vitale e con lode vi offra la santa emozione gioviale. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.